buon dia a tutti oggi voglio mostrarvi come realizzare questa sfiziosa copertina per carrozzine con il punto a puff perché ha questi simpatici puff in rilievo è molto semplice da realizzare in realtà può sembrare complicato all'inizio realizzare questi puff ma vi posso assicurare che una volta che si prende la mano diventa molto semplice io ho utilizzato una lana che è del 57% acrilico e 43% lana e ho avviato 105 catenelle perché ho fatto appunto una copertina per carrozzina ma se voi volete fare una coperta più grande per lettino per letto singolo dovete solo ricordarvi di aumentare in modo che le catenelle finale siano divisibili per sette che altro dire io ho utilizzato l'uncinetto del 3 perché non volevo l'azione fosse troppo larga perché comunque è una copertina e deve tenere al caldo il bambino però voi potete utilizzare qualsiasi tipo di uncinetto preferiate in tutto ho utilizzato all'incirca 200 grammi del colore panna e 200 grammi del colore nocciola spero che il video tutorial sia semplice e che riusciate a farlo anche voi se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook uncinettando con elsa o sul mio blog www.uncinettandoconelsa.it un bacio e alla prossima allora per realizzare la nostra copertina io lavorerò su un campione vi ho già detto nella parte iniziale che io lavorerò con l'uncinetto del numero 3 e il campione ho avviato 28 catenelle mentre voi dovete avviare una catenella le catenelle che desiderate per la larghezza della vostra copertina ricordandovi di farlo per un multiplo di 7 allora una volta realizzate le 28 catenelle io vado a inizio il primo giro e faccio 3 catenelle che equivalgono la mia prima maglia alta prendo il filo entro nella quarta catenella e vado a fare una maglia alta prendo il filo vado nella catenella successiva e faccio un'altra maglia alta prendo il filo catenella e vado a fare un'altra maglia alta continua fino a creare un gruppo di 7 maglie alte quindi io ne ho realizzate 4 perché le 3 catenelle iniziali sono la prima maglia alta quindi 4 5 6 e 7 realizzate il gruppo di 7 maglie alte faccio una catenella di separazione prendo il filo e continuo ad entrare nella catenella successiva e faccio una maglia alta a questo punto devo fare di nuovo un gruppo di 7 maglia alta e quindi ho fatto una vado a fare la seconda la terza la quarta quinta sesta e settima realizzata la nostro gruppo di 7 maglie alte faccio la catenella di separazione prende il filo vado nella catenella successiva e ricomincio a fare un gruppo di 7 maglie alte devo continuare così per tutto la per tutta la cara per tutto il giro quindi gruppo di 7 maglie alte una catenella e continuo con il gruppo di 7 maglie alte senza saltare le catenelle di base devo continuare quindi ripetiamo una due tre quattro cinque sei e sette una catenella di separazione e faccio di nuovo il gruppo di il gruppo di sette maglie alte una due tre quattro cinque sei e sette terminato il mio primo giro ripeto io sto facendo un campione voi quindi dovete farlo per tutta la larghezza che avete che avete fatto posso girare il lavoro e passare alla secondo giro e faccio tre catenelle che equivogano la mia prima maglia alta una catenella di separazione salto la seconda maglia del gruppo di sette maglie alte entro nella terza e vado a fare una maglia alta prendo il filo vado nella quarta maglia alta del gruppo di 7 faccio un'altra maglia alta prendo il filo vado nella quinta e faccio una maglia alta ho realizzato così tre maglie alte catenella di separazione prendo il filo salto la sesta maglia entro nella settima maglia alta del gruppo del giro precedente adesso una catenella di separazione entrò nella prima maglia alta e vado a fare una maglia alta sono nel secondo gruppo di sette maglie alte una catenella di separazione salto la seconda entrò nella terza e faccio mai alta come prima adesso devo fare tre maglie alte consecutive ne ho fatto una vado a fare la seconda sopra la quarta del gruppo di sette e vado a fare la terza sopra la quinta del gruppo di sette precedenti una catenella di separazione entrò nell'ultima maglia delle sette maglie alte del giro precedente e faccio una catenella di separazione una maglia alta una catenella di separazione e ricomincio una maglia alta sopra la prima maglia delle sette maglie alte una catenella di separazione entrò nella nella terza e faccio una maglia alta entrò nella quarta e faccio una maglia alta entrò nella quinta e faccio un'altra maglia alta una catenella di separazione entrò nella settima maglia alta e faccio una maglia alta, catenella di separazione e si rinizia. Devo fare questo per tutto il giro, ripetiamo un'ultima volta così poi ho giro il lavoro, una maglia alta sopra la settima, sopra la prima maglia alta del gruppo 7, una catenella di separazione, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta, una catenella di separazione, entro nella terza catenella del giro precedente per chiudere il giro e faccio una maglia alta. Ho terminato così il mio secondo giro. Terzo giro, 3 catenelle che equivalgono sempre alla mia prima maglia alta, una catenella di separazione, entro nella prima maglia alta del gruppo di tre e vado a fare una maglia alta, una catenella di separazione, salto la seconda del gruppo di tre, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, una catenella di separazione, vado nella maglia alta, quindi salto il foro di una catenella, vado direttamente nella maglia alta e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, salto il foro di una catenella, vado nella maglia alta e faccio una maglia alta, una catenella di separazione e sono di nuovo arrivata al gruppo di 3 maglie alte e faccio una maglia alta sopra la prima maglia alta, una catenella di separazione, una maglia alta sopra la terza maglia alta del gruppo di 3 del giro precedente, una catenella di separazione e rinizio, salto lo spazio di una catenella, vado sopra la maglia alta e faccio una maglia alta, catenella di separazione, salto lo spazio di una catenella e vado direttamente nella maglia alta e faccio una maglia alta, catenella di separazione, sono arrivata al gruppo di 3 maglie alte, una maglia alta sopra la prima, una catenella di separazione, una maglia alta sopra la terza catenella di separazione continuo così per tutto il giro in modo tale da ottenere come terzo giro maglie alte separate tra di loro tra una catenella vi faccio vedere alla fine per me la fine voi vedete una maglia alta sopra la maglia alta saltando il foro di una catenella catenella di separazione salto il foro di una catenella vado nella maglia alta successiva una catenella di separazione sono arrivata al gruppo di tre cade di tre maglie alte una maglia alta sopra la prima maglia alta una catenella di separazione una maglia alta sopra la terza maglia alta del giro precedente una catenella di separazione entrò nella terza catenella che ho fatto all'inizio dell'altro giro nel giro precedente e faccio la mia ultima maglia alta ok adesso ho terminato il mio terzo giro per iniziare il quarto giro prendo il filo di vede il colore diverso che per me che parla la panna palla panna a voi sarà il filo il colore che avete scelto e cambio come faccio prendo il filo entro nella sola io non lo faccio però voi fatelo taglio qui e inizio il mio quarto giro una due tre catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta prendo il filo entro nel foro di una catenella a questo filo lo lascio fuori e vado a fare una maglia alta prendo il filo vado nella maglia alta e faccio una maglia alta vendo il filo entro nel secondo foro di una catenella e faccio una maglia alta prendo il filo e vado nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta allora perché io non ho nascosto il filo lavorandolo qua dietro perché in realtà io lo nasconderò quando farò ai lati una riga di maglie basse questo perché io ho deciso di non fare un bordino alla copertina perché mi sembrava poi che diventasse troppo pesante quindi mi sono limitata a fare a entrambi i lati più lunghi delle maglie basse per coprire i fili e fare anche una sorta di bordino piccolo bordino ai lati continuiamo quindi con il quarto giro ho fatto questo gruppo di cinque maglie alte adesso prendo il filo vedete sono arrivata dove ho qui tre fori di una catenella nel secondo giro è un foro di una catenella nel primo giro prendo il filo entro nel primo foro dei tre del secondo giro prendo il filo tiro ed esco riprendo il filo sull'uncinetto rientro nello stesso foro riprendo il filo ed esco filo sull'uncinetto rientro nel foro prendo il filo ed esco sto realizzando il mio puff adesso prendo il filo dopo aver fatto tre volte aver preso il filo dal dal primo foro della secondo giro entro nel foro del primo giro prendo il filo tiro ed esco ancora filo sull'uncinetto entro nel primo foro nel foro del primo giro tiro ed esco un'ultima volta prendo il filo sull'uncinetto entro nel foro ed esco prendo il filo e adesso vado nell'ultimo foro delle tre dei tre dei tre fori del secondo giro e faccio la stessa cosa prendo il filo ed esco filo sull'uncinetto entro nel foro prendo il filo ed esco ultima volta perché devo farlo tre volte in ogni foro prendo il filo entro nell'uncinetto nel foro ed esco una volta realizzato ciò prendo il filo sull'uncinetto ed esco da tutte le maglie che ho sull'uncinetto in questo modo e poi faccio una maglia bassissima per chiudere tutto insieme ho realizzato così il mio primo puff vado avanti prendo filo vado nella maglia alta e faccio una maglia alta prendo il filo vado nel foro di una catenella e faccio una maglia alta prendo il filo e vado nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta realizzate queste tre maglie alte vedete che mi ritrovo di nuovo dove ci sono i tre fori quindi posso di nuovo fare il mio puff quindi ripetiamo insieme come si fa prendo il filo entro nel primo foro del secondo giro prendo il filo ed esco filo sull'uncinetto entro nel foro prendo il filo tiro ed esco il filo sull'uncinetto entro nel foro prendo il filo ed esco ricordate di doverlo fare perché dovete farlo tre volte in ogni foro che andiamo a lavorare prendo il filo adesso devo andare nel foro del primo giro quindi prendo il filo ed esco prendo il filo sull'uncinetto entro nel foro prendo il filo ed esco aspettate che devo tirare un posta lana che ultima volta filo sull'uncinetto entro nel foro prendo il filo e tiro ed esco adesso vado a fare il mio ultimo la mia ultima vado a fare gli ultimi 3 nell'ultimo foro le dei tre che sono nel secondo foro ed è secondo giro prendo il filo ed esco 1 prendo il filo sull'uncinetto entro nel foro ed esco 2 prendo il filo nell'uncinetto entro nel foro prendo il filo ed esco adesso prendo il filo ed esco da tutte le maglie che ho sull'uncinetto e faccio una maglia bassissima per chiudere di nuovo prendo il filo maglia alta e faccio una maglia alta prendo il filo fuori di una catenella faccio una maglia alta prendo il filo vado nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta trovandomi così di nuovo nei tre fori del secondo giro nel foro del primo giro continui e ricomincio a fare il puff e devo continuare così per tutta la lunghezza io lo faccio insieme a voi l'ultima volta così vi faccio vedere anche come si finisce il giro prendo il filo sull'uncinetto entro nel primo foro del secondo giro prendo il filo ed esco prendo il filo entro nel foro prendo il filo ed esco prendo il filo entro al foro prendo il filo ed esco l'ho fatto per tre volte quindi adesso prendo il filo e vado nel foro di un del primo giro prendo il filo ed esco ancora prendo il filo entro nel foro rende il filo ed esco ancora prendo il filo entro al foro ed esco a questo punto vado nell'ultimo foro del secondo giro prendo il filo esco filo sull'uncinetto prendo il filo ed esco filo nell'uncinetto entrò dentro prendo il filo ed esco A questo punto prendo il filo, esco da tutti e faccio una maglia bassissima. Arrivata alla fine, io dovrò fare 5 maglie alte come ho fatto all'inizio del quarto giro. E come si fa? Prendo il filo, entro nella prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, entro nell'arco di una catenella e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, entro nella maglia alta e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, entro nell'ultimo foro e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo e entro nella terza catenella, 1, 2, 3, e vado a fare la mia ultima maglia alta per terminare il quarto giro. Ho terminato così il quarto giro. Andiamo a girare il lavoro per fare il quinto giro. Allora, adesso dobbiamo ricominciare da capo, ossia dal primo giro. Per fare ciò dobbiamo rifare il gruppo di 7 maglie alte. Vi faccio vedere come. 3 catenelle iniziali che sono la nostra prima maglia alta. Prendo il filo e vado a fare una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Una maglia alta sopra la terza maglia alta del giro precedente. Una maglia alta sopra la quarta. Una maglia alta sopra la quinta. Come ho detto io però, devo realizzare di nuovo il gruppo di 7 maglie alte. Quindi farò 2 maglie alte tra la quinta maglia alta del giro precedente e il puff. Quindi entro dentro e faccio una maglia alta. Rientro dentro e faccio una maglia alta. Realizzate le 7 maglie alte, io andrò a fare la catenella di separazione. Adesso devo realizzare il prossimo gruppo di 7 maglie alte. E farò tra il puff e la prima maglia alta delle 3, 2 maglie alte. 1 e 2 Una maglia alta sopra la prima maglia alta. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Una maglia alta sopra la terza maglia alta. Ne ho realizzate così 5 e me ne servono 7. Quindi andrò a fare le ultime 2 tra la terza maglia alta del giro precedente e il puff. Quindi 6 e 7. Una catenella di separazione. E ricomincio. Rientro tra il puff e la prima maglia alta delle 3 del giro precedente. E faccio 2 maglie alte. Una maglia alta sopra la prima maglia alta. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Una maglia alta sopra la terza maglia alta. Devo realizzare le mie ultime 2 per avere il gruppo di 7 maglie alte. Quindi andrò a fare una maglia alta e una seconda maglia alta. Catenella di separazione. Devo continuare così per tutto il giro. Al termine io andrò a fare 2 maglie alte tra il puff e la prima maglia alta del gruppo di 5. Quindi 1 e 2 e adesso andrò a fare le mie ultime 5 maglie alte. quindi che sarebbe io la mia 1 2 3 4 e l'ultima la vado a fare nella terza catenella del giro precedente che equivale alla mia prima maglia alta. Vedete? Ho così realizzato di nuovo il gruppo di 7 maglie alte. Adesso devo ripetere il secondo giro. Quindi una maglia alta una catenella di separazione vado a fare un gruppo di 3 maglie alte nella terza nella quarta e nella quinta del gruppo di 7 maglie alte. Una catenella di separazione vado a fare la mia ultima maglia alta sul gruppo di 7 maglie alte. Una catenella di separazione e ricomincio. Una volta fatto il secondo giro e ripetuto anche il terzo cambierete il filo in modo tale da poter tornare a fare i puff. Come vedete è semplicissimo non bisogna prendere soltanto bisogna solo prendere un po' la mano per fare i puff ma vi posso assicurare che man mano che lavorerete il lavoro diventerà sempre più facile. Grazie a tutti.